Oggi è un momento importante per la nostra diocese, un giubileo che vede come protagonista i giovani. Sì, siamo all'interno della parte vicariale del giubileo che viene celebrato nel vicariato primo cittadino che si è svolto incontrando un po' tutte le fasce di età. Oggi è il momento dei giovani in cui i giovani delle nostre parrocchie in qualche modo tentano di raccontare che modo hanno conosciuto la misericordia che è stata riservata per loro e cercano di farne un annuncio per quelli che passeggiano, quelli che magari non sanno che comunque sono anche loro amati da Dio. Ecco, secondo lei quanto è impegnativo per i giovani questo momento? Secondo me per i nostri giovani questo momento è molto impegnativo perché significa, come dice il Papa, metterci la faccia. Significa essere in grado di esporsi e di dire che il Signore per noi è importante. Questo per i nostri giovani in un mondo che è sempre più scristianizzato è un passo difficile ed è comunque un bel gesto di testimonianza che con fatica abbiamo deciso che vogliamo fare.